A noi piace vivere così, con Absoluta di Tognana. Tognana ha trasformato il tradizionale concetto di cottura. E anche questo ci piace. È l'esclusiva superficie interna di Absoluta. Si chiama Floatec, la nuova frontiera dell'antiaderente. Per darti un cibo morbido, sano e gustoso. Cottura omogenea e uniforme. Stabile anche in sovracottura. Il cibo non attacca e perde meno volume. E anche questo ci piace. Absoluta è adatta a tutti i piani cottura. Manici, removibili, la lavo come un piatto. A mano o in lavastoviglie. Una bella soluzione salvaspazio. E anche questo ci piace. Design, materiali eccellenti ed estetica ricercata. Absoluta. Con speciale interno Floatec di Tognana. A noi piace vivere così.